In questi ultimi giorni il personale di una volante dell'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Ragusa ha denunciato in stato di libertà due vittoriesi rispettivamente di 26 e 36 anni per il reato di tentato furto aggravato e ricettazione. Inoltre il 36enne è stato denunciato anche per il reato di porta abusivo di strumenti atti a offendere, mentre il 26enne per guida senza patente perché revocata nello specifico durante i servizi di controllo del territorio predisposti dal questore di Ragusa Vincenzo Trombatore veniva segnalata alla sala operativa un tentativo in atto di furto di un motociclo che si trovava parcheggiato in una via centrale di Ragusa. L'immediato intervento degli agenti della squadra volante permetteva di rintracciare i due uomini mentre si stavano allontanando a bordo della loro autovettura. I poliziotti, dopo aver fermato l'autovettura, procedevano subito al controllo. E' stata effettuata una perquisizione nel corso della quale all'interno del veicolo sono stati anche rinvenuti diversi beni di dubbia provenienza che pertanto venivano sequestrati per poter effettuare i successivi accertamenti. Inoltre il 36enne è stato trovato in possesso di un coltello che è stato anch'esso sequestrato. Al conducente del veicolo veniva altresì contestata la guida con patente revocata.